Tanti ricordi che a Sanremo mi hanno regalato dei bambini. Ah, i bambini hanno regalato, non i giocattoli, ho capito. Ma i bambini mi hanno dato un regalo, non mi ricordo ormai il nome. Però ogni, come si dice, ogni giocattolino, ogni pupazzetto, ecco pupazzetto è l'anno di Sanremo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette... Abbiamo capito che sarà, fino a sette... Tanti anni di Sanremo, questi sono regali di Sanremo. Ma con questi ci giocavano i tuoi figli? Eh sì, non posso dimenticare, ma ormai no. Niente, loro giocheranno altri pensieri. Adesso lasciamo gli stessi e godiamoci, vada qua che sono bene, con lo sfondo di roccaforte. Ecco, eh sì, e allora, che ti posso dire? Ecco, diamo un messaggio, i giocattoli perché servono, Adriano? Eh, i giocattoli servono non per noi, ma anche per i bambini piccolini. Eh. In questo momento anche dei ragazzi che hanno bisogno dei giocattoli. Perché nella vita giocare... Devo fare qualcosa. Nella vita giocare è importante. Certo. E noi stiamo giocando anche con la telecamera. Ma stiamo giocando, però questi sono ricordi. E i ricordi sono importanti. E i ricordi, ricordi che tu, dici giusto, sono importantissimi. Non dimentichiamoci che tutti siamo stati bambini. Mai. E i bambini li adoro. Ora devo trovare qualcosa per... L'iniziativa per i bambini. Ecco, allora invitiamo le persone così come li abbiamo stesi qua, lavati e stesi, pronti per essere riutilizzati. Quindi riutilizziamo i nostri ricordi, i nostri giocattoli, le nostre speranze, le nostre risorse e cos'altro. La speranza non è l'ultima a morire. Mi hai convinto. E questi danno un simbolo della vita che è continua per noi e per i bambini. Va bene. Grazie a Deanna. E con questo io che ti posso dire. E mi hai già detto. Auguriamo felicità ai bambini. Esatto, bene. Che saranno forti in Italia e con l'Italia. Che crescano forti e sani. Va bene. E questo vi auguro con tutto veramente il cuore. Va bene. Grazie a Deanna. E questo ho concluso. Però. Da Roccaforte del Greco. Insomma. Da Roccaforte del Greco. Non concluso mai. Ecco. E un arrivederci ma non un addio. E con questa collezione Adriano Angelentano vi saluta da Roccaforte del Greco. Ciao Adriano. Ciao. E una buona giornata. E con una buona giornata anche qua i pupazzetti stessi. Bellissimi. Eccoli qua. Vai. Vai. Questi sono belli. Eccoli qua.